se vuoi partecipare anche tu alle mie money lobby iscriviti al canale con la campanella attiva su tutte poi devi lasciare like a questo video è molto importante e infine devi commentare nei commenti in questo caso più volte il tuo id o di ps4 oppure di xbox one oppure pc devi commentare nei commenti il tuo id così ti potrò invitare nelle sessioni private dove dropperemo i soldi a tutte le persone iscritte al canale con la campanella ok se anche tu vuoi fare soldi su gta 5 online iscriviti al canale con la campanella lascia like a questo video e vammi a seguire su instagram xianoxofficial è molto importante che seguirai tutti i requisiti se no non potrai guadagnare soldi grazie a me è totalmente gratis quindi fa l'ora esegui tutti i requisiti uno per uno e benvenuti a tutti in questo nuovo video qui xianoxofficiali oggi siamo qui in un nuovo trucco per guadagnare soldi su gta 5 online con una duplicazione veramente veramente molto semplice per tutti i giocatori di gta 5 online per tutte le piattaforme mi raccomando prima di partire col video se anche tu vuoi partecipare alle mie piogge di soldi money lobby su gta 5 online tutti i giorni dalle 18 alle 21 non stop su ps3 ps4 ps5 xbox e pc totalmente gratis dovrai eseguire questi passaggi qui al 100% come prima cosa lascia like a questo video come seconda cosa iscriviti al canale con la campanella come terzo passaggio commenta nei commenti con il tuo id e con la tua piattaforma come ultimo requisito veramente veramente molto importante per partecipare seguimi su instagram xianoxofficiali veramente molto importante perché ti dirò quando potrai partecipare alle money lobby e quando sarà il tuo turno comunque come vedete la missione da avviare per questo trucco qui ora ve la mostrerò è veramente veramente molto facile si chiama recupero pericoloso lamar quindi sarà una missione come vedete che darà soldi doppi ed rp doppi veramente veramente molto facile per tutti i giocatori di gta 5 line quindi mi raccomando fate questa missione al massimo come vedete per tutti i giocatori basta avviarla in solo e boh avete in pratica fatto il tutto quindi come vedete avviate la missione e dovete andare in questo punto qui quindi dovete andare nel punto dove in questo caso sarà l'auto da recuperare ora vi mostrerò tutti i passaggi comunque non vi servirà niente nessun requisito potete farlo tutti questa specie di duplicazione quindi dove troverete dei veicoli e li potete mettere nel garage comunque vi mostrerò tutto il trucco su come mettere questi veicoli dentro il garage per questo che vi dico guardate questo video fino alla fine è veramente veramente molto molto importante ragazzi ok quindi come vedete saremo qui con il nostro veicolo ok e ora andiamo lì nella posizione in questo caso dove si troverà l'auto quest'auto qui e cosa dovremo fare voi vi chiederete quindi andremo in quella posizione lì con il nostro veicolo come vedete con la nostra auto che abbiamo in questo momento e poi compariranno delle specie di auto verdi dove noi dovremo recuperare e portare nel garage quindi è veramente veramente molto semplice ora vi mostrerò tutto di quello che dovrete fare quindi come vedete in questa posizione qui uccidete sto tizio querga e vi proteggete dietro alla macchina ora cosa dovete fare è veramente veramente molto semplice dovete attendere che in questo caso arriveranno dei veicoli verdi dei veicoli SUV io vi consiglio di salire sull'auto e poi scendere così almeno attirerete di più l'attenzione dei nemici e così le auto ad arrivare ci metteranno meno comunque uccidiamo intanto questi giocatori e a breve dovranno arrivare queste auto qui ora vediamo un attimino ed eccole lì stanno già arrivando quindi cosa dovremmo fare eccole qui le auto dovremo in questo caso uccidere i nemici una volta fatto recuperiamo queste auto qui quindi le rubiamo tranquillamente come vedete eccole qui e ora cosa dovremmo fare ora queste auto qui le dovremo portare nel nostro garage si avete capito bene le porteremo nel nostro garage e poi una volta che le avremo messe nel garage poi dopo le potremo rivendere quindi anche questo qui è veramente un buon metodo ecco per iniziare a guadagnare soldi non so bene a quanto le venderete credo che le venderete a 20-30 mila dollari comunque quest'auto qui comunque come vedete sono veramente dei veicoli buoni anche se li volete ottenere in questo caso da usare sul GTA 5 line comunque valgono di più di quelle semplici perché come vedete è un veicolo una specie di veicolo raro speciale che in questo caso non potete ottenere normalmente sono dei veicoli di una specie di gang su GTA 5 online voi vi direte ma tu questo veicolo qua non lo potrai mettere nel garage non si può quando fai una missione mettere un veicolo nel garage stai tranquilli ragazzi ora vi mostrerò anche il trucchetto per in questo caso mettere l'auto un'auto qualsiasi dentro il garage ok quindi veramente molto semplice cosa dovremmo fare quindi come prima cosa dovremmo prendere l'auto in questo caso il veicolo e andiamo nel garage quindi in un garage qualsiasi in un appartamento che è veramente molto importante prima di avviare in questo caso la missione mettetevi il punto segnalino se non vi ricordate dov'è il garage perché nella mappa non ve lo mostrerà in questo caso io ho l'eclipse tower quindi me lo ricordo benissimo dove si trova l'eclipse tower comunque ora vi mostrerò tutto il trucchetto ok quindi come vedete eccoci qua siamo arrivati qui all'eclipse tower e ora fate attenzione a quello che vi dirò ora e fate il tutto ok quindi eccoci qua siamo arrivati qui all'eclipse tower parcheggiamo l'auto un po' più indietro del puntino blu quindi come vedete vi apparirà questo messaggio qui torniamo indietro lasciamo il veicolo un po' più indietro prendiamo una bomba adesiva e dovremo metterla sul puntino blu una volta fatto andiamo sul puntino blu e la facciamo esplodere quindi ci suicidiamo una volta fatto come vedete che saremo sponati ora dovremo andare dall'auto e ce la farà mettere dentro il garage io vi consiglio di mettere la modalità in facile così potete avere tre vite e potete recuperare in questo caso più auto in una volta sola in una missione comunque cosa dovete fare prendete l'auto come vedete è veramente molto facile e la mettete dentro il garage e come vedete e quindi come vedete ci metterà il veicolo come vedete all'interno del garage ok quindi ha funzionato il trucchetto quindi mettete il veicolo dentro il garage quindi potete mettere più veicoli in questo caso andate a recuperare gli altri SUV e metteteli dentro il garage è veramente veramente molto semplice una volta che in questo caso avete messo il veicolo cambiate vestito ok cambiate vestito in questo caso per salvare il tutto quindi andare su stile e cambiate outfit comunque per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto mi raccomando lasciate like al video iscrivetevi al canale con la campanella è veramente veramente molto importante vi volevo portare questa specie di duplicazione in solo adatta a tutti e noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti